In collegamento con il nostro inviato Ancora? Ma sono le 3.46 Se vuoi dire inviato, no? Ma io non mi sono mosso da qua Allora, io voglio da te una cosa rapida, concisa Due parole, facendo una ricostruzione e un giudizio tuo Sulla bufera Lodito Sulla bufera Lodito? Sì, che è successo? Lodito ha una sinistra caratteristica Tu quando senti parla ai politici, no? Sì Sembra che hanno tutti ragione Tutti ragione Parla quel Cazzo c'ha ragione Parla quell'altro Tiene un'altra cosa E però pure questo c'ha ragione Non ti ha ragione Parla Lodito C'ha torto E tu No La cosa bella è che quello finisce parlando di me Porca miseria Però questo c'ha ragione Ma alla fine Quando finisce il discorso Riesce ad aver torto fracico pure quando c'ha ragione Guarda, è incredibile Allora Adesso spiegami perché c'ha ragione C'ha ragione perché da rifondare tutto Non si può Non si può Diciotto squadre Ma pure sedici Pure sedici Ma come si fa? Dumi la squadra La società professionista Semiprofessionista In Serie C Danno centomila euro all'anno ai cristiani Ma come si fa? Ma questo è un regno Ma guarda io farei quattro squadre Juve, Inter e Milan che sono quelle che vincono ogni anno E poi la Roma che è quella che deve perdere Facciamo un campionato a quattro Non significa ma questo Questo non ti ha significato Ci stanno questi che proprio campano parecchi al di sopra Le loro possibilità non va bene Il sistema va rifondato Quindi su questo c'è ragione Oh, dov'è che ci ha torto allora? Tu non puoi dir Fio, mi usa Poi, mi carica in lega Non puoi dir Queste non salgono Questa ma è da lì Questa ma la metti giù Questa ma la metti giù Questa quanto ma la metti al chilo Quindi sbaglia i modi Sbaglia completamente i modi Anche perché quello poi Se un giorno gli danno un rigore colto Allora lo vedi Capito? Lo vedi? Perché quello ha detto così Dove vuoi andare lì? Hai visto? Crea un casino Poi magari quello era uno sbaglio così Una cazzata Invece Ah, ecco Vedi Cioè non si può fare Quali saranno gli sviluppi adesso? Nessuno Ah, nessuno? Nessuno come al solito Come in Italia Non cambierò Ah, va bene Quindi sta telefonata È stata utile per capire Insomma Lo scenario Non cambierò un accidente di niente Va bene L'altro anno così Tutto qua Io ti ringrazio Sarà tutto me Perché sei stato La gente era partita a piatto Le spaghe Vaffanculo Va bene Noi ti salutiamo Ecco Grazie perché tu come sempre ci illumini Meno male Sì, è la padina Come chiamo Esatto Vabbè Ciao Grazie bene Ciao Ciao